benvenuta nella mia vita naturale oggi faremo un warm up quindi un riscaldamento per gli arti superiori ideale per workout da 10 a 15 minuti che troverai linkati sia sotto nel box informazioni che in fondo al video iniziamo circonduzioni questi warm up brevi sono ideali appunto da abbinare a questi workout per le persone che magari hanno poco tempo per allenarsi cambia cambia continua ho detto cambia cambia senso davvero piccoli piccoli giù le spalle 3 2 ancora 8 8 7 6 5 4 3 2 cambia e su braccia semiflessor giù le spalle espira eh ancora 8 7 6 5 4 3 2 cambia qui e alto fletti e vai in alto fletti e vai in alto seguite Unfortunately it's time to take out or in alto air! retou 8 7 6 6 5 5 4 3 2 vai everybody 간 channels metto la cera, tolgo la cera, metto la cera, tolgo la cera, movimenti ampi, allunga bene le braccia, raggiungi il soffitto e le pareti laterali, ancora 4, 3, 2, 1, perfetto, qua, tira e tocca, e diventiamo il contratto, non fare questo, ma bloccati qui, giù le spalle, 4, 3, 2, 1, ballo in avanti, solleva dietro le braccia, tenere, 4, 3, 2, 1, perfetto, buon allenamento, te lo lascio qui,